Il notaresco viene sconfitto 3 a 0 in casa dal Cinzia Balonga in una gara dove avrebbe meritato di più e con gli ospiti che hanno allungato solo nel finale. La prima opportunità al settimo proprio per il notaresco con scimia lanciato in aria e fermato a Tupertù al momento del tiro. Al quindicesimo è Gelsi a provarci dal limite trovando la parata a terra di Santilli mentre un minuto dopo dall'altra parte Sivilla insacca quando però era già stato segnalato il fuorigioco. Al ventesimo il Cinzia Balonga passa in vantaggio, batti e ribatti nell'area piccola e deviazione vincente di Redondi per lo 0 a 1. Nel finale di tempo Cipro a mercato, al trentottesimo sfiora la traversa dal limite e al quarantacinquesimo viene steso entrando in aria con l'arbitro che lascia proseguire. Nella ripresa il notaresco ha subito una doppia occasione, al decimo Gurini colpisce la traversa da fuori area e all'undicesimo Cardinali lanciato a rete conclude centralmente in diagonale. Ancora Romano appena in aria al ventunesimo non c'entra la porta, poi al trentaquattresimo l'episodio che potrebbe cambiare la gara. Con Pulsoni che penetra in aria viene sgambettato vistosamente ma l'arbitro incredibilmente lascia proseguire scatenando la furia della panchina notareschina. Al trentacinquesimo gli ospiti ci riprovano in contropiede con Sciba che da due passi fa il miracolo su Cappai. Gli schemi però sono saltati, al quarantesimo in contropiede Borrelli recupera una respinta corta e insacca lo 0-2. E al quarantasettesimo ancora in contropiede è Cappai a realizzare lo 0-3 saltando anche Sciba. Al triplice fischio ancora pesanti le proteste verso la Terna sia da parte dei protagonisti in campo che da parte dei tifosi sugli spalti. Nel primo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio, sapevamo che venivamo a giocare su un terreno difficile. Notaresco sta lottando per un obiettivo importante, quello della salvezza. In questo momento del campionato venire a vincere qua non è semplice, come non sarà semplice andare a vincere in questo tipo di terreni contro squadre che si devono salvare. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto il giusto e abbiamo tenuto bene. Poi nel finale abbiamo chiuso una partita che per noi è importantissima per quello che è il nostro obiettivo. Sì, ci dobbiamo consolidare nella zona playoff cercando di guadagnare posizioni se ne abbiamo la possibilità. E poi andremo a vedere quello che succederà nelle prossime partite, però questo per noi era un passaggio importante, ripeto, su un terreno difficile. Beh, l'avete visto voi, stasera avete pure più tranquillità per rivederlo e lo giudicate voi e tutte le persone che stanno all'esterno. Quindi sicuramente l'episodio, sicuramente la designazione, perché andiamo a vedere dove è l'arbitro. E poi noi martedì ci rimettiamo al lavoro. Però una cosa è chiara, il messaggio che deve uscire oggi è che il notaresco se deve morire morirà fino all'ultimo e darà filo da torcere a tutti. Perché noi siamo a partire dalla società, a tutto il gruppo squadra, a tutto il gruppo del lavoro. Tutti i giorni facciamo i sacrifici. Non chiediamo niente, ma chiediamo solo rispetto per tutta la città di Notaresco, per la società. E quindi noi andiamo avanti, le cose le dovete giudicare voi che avete visto oggi la partita, che avete più calma di poterla vedere in televisione. Ma intanto io vi do un input, andiamo a vedere di dove è l'arbitro. Chiediamo solo rispetto. Per il resto comunque andiamo a testa alta, andiamo avanti e andiamo a vincere a Chieti sicuramente. Ma guarda, io sono entrato nello spogliatoio e non è facile adesso parlare ai ragazzi. Quindi questa è la simbiosi della partita, tranne Vasto Girardi dove abbiamo sbagliato comunque sicuramente atteggiamento su alcune situazioni. Ma la squadra ha sempre lottato. Noi a questi ragazzi non possiamo dire niente. Quindi con coraggio, con forza, tutti insieme da martedì ci rimettiamo al lavoro. Lascio a tutti anche questo. Mettetevi nei panni nostri di come possiamo iniziare la settimana. Ma la inizieremo sicuramente con tanta rabbia. Quindi ripeto ancora una volta, andremo a Chieti a vincere.